Manelibetame nun heren, anensi non guttname, con il vostro Adler, 19-18-5, Marco, Lazio Club Monaco, dal cuore della Baviera, dal cuore di Monaco per tornare a parlare di... No, non siamo qui per parlare di Lazio, lo dirà anche ovviamente il titolo in descrizione, quindi penso che lo potrete intuire da soli quello che sarà l'argomento e chi mi conosce già sa come sono fatto, quindi sa quanto io ci tengo a fare questa cosa, perché al raggiungimento di 100 follower nuovi mi piace fare questo video di ringraziamento, mi piace questo video dedicato essenzialmente a voi, amici che mi seguite perché è un dogma dello spettacolo in generale, se non c'è un pubblico lo spettacolo non ha ragion d'essere, poi ci stanno delle varianti un pochino... però ecco, fondamentalmente se nessuno vedesse la televisione fallirebbero tutte le televisioni del mondo, se nessuno andasse a teatro chiuderebbero tutti i teatri del mondo, se nessuno guarderebbe un video su YouTube non avrebbe senso fare video su YouTube e quando io esattamente 24 ore fa ho letto 400 sul canale mi sono come sempre emozionato, commosso al raggiungimento di nuovi 100 follower ho degli amici che mi hanno consigliato di fare questo tipo di video, perché ci sta ovviamente ringraziare quella che è la community come si dice in gergo, mi hanno consigliato di fare questo video a raggiungimento di obiettivi un po' più toni quindi farlo a 500, 1000, 1500, chissà, magari sarebbero numeri meravigliosi però io penso che sia più bello farlo a raggiungimento di ogni 100 perché è un piccolo obiettivo, un piccolo passo e questo ringraziamento lo possono ascoltare tutti coloro che fanno parte tra gli ultimi iscritti e tutti quelli che già sono iscritti da diverso tempo perché senza di voi, cosa scontata ma reale, non avrei ragione ad essere qui e fa piacere leggere 400 persone che si interessano al lavoro che fai tendenzialmente il canale Aller191985 è nato per far conoscere il Lazio Club Munche che è la cosa che mi preme sempre, la cosa più importante perché mi piace dare un asilo alle persone che transitano per Monaco lo dico sempre a ogni video però ammetto che mi piace anche stare qui davanti a commentare le partite con voi a dare il mio pensiero a qualcuno che magari è interessato e che partecipativamente voi sapete, faccio sempre tutto per cercare di rispondere a tutti i commenti perdonatemi se non ci riesco sempre ma perché mi piace questo scambio di opinioni anche con qualcuno che non la pensa come me perché poi non è che sia un guru del calcio non è che io so Zoff che ha vissuto una vita del calcio anche a certi livelli e quindi quello che dico potrebbe essere legge so un tifoso che mette il suo viso barbuto davanti alla telecamera per dire quello che pensa e mi piace lo scambio anche civile che c'è stato tra di noi anche nel momento in cui magari non la pensiamo la stessa maniera ed è per questo che io devo ringraziare voi community, follower, amici definitevi come volete mi piace definirvi amici in realtà perché vi sento molto molto vicini a me e questo mi fa tanto tanto piacere un anno e mezzo fa ho iniziato questo progetto con poche ambizioni o poche speranze e oggi quando leggo 400 tornando poi a quello che è lo spettro del social network 400 follower, sapete anche voi non è una grossa cifra non sono tanti per me serie tantissimi invece perché poi lo dicevo penso in uno dei video dei ringraziamenti precedenti tu però immaginate in una piazza e metteci 400 persone 400 persone non sono tante non sono mica poche e quindi ragazzi per me è una grande soddisfazione aver raggiunto questo altro piccolo traguardo e spero di poter fare naturalmente a breve più velocemente possibile un video per ringraziare i 500 e poi 600 e così via perché siete la nostra linfa di tutte le puttanate che diciamo quando ci mettiamo qui davanti siete quello che ci dà una mano a vivere quindi ragazzi non possiamo che ringraziare io e ringrazio anche a nome dei ragazzi del club perché magari un giorno succederà che qualcuno vedrà un mio video e dirà oh ma a Monaco c'è stan club io ci vado tra due settimane fammi un po' sentire e mi farà solo che piacere il raggiungimento di questo obiettivo quindi per Youtube 400 follower sono pochi o niente a me non me ne può fregare meno per me 400 follower sono tutto perché è per quei 400 follower che io mi metto davanti al mio computer che fa schifo e quindi la qualità audio e video non è ottimale ma mi metto qui a dire quello che penso tante cose sono ancora da sistemare tante cose sono ancora da ordinare spesso chi mi vuole bene chi mi sta un po' più vicino mi critica questo o quello ma ovviamente è per cercare di migliorare altre cose migliorano sono migliorate nel corso del tempo mi capita ogni tanto di andare a vedere i primi video postati in cui capisco che anche io ho fatto una crescita sotto questo punto di vista ho fatto una crescita davanti alla telecamera e quindi anche io sono cambiato artisticamente e anche emotivamente perché ripeto c'è qualcuno che ascolta quello che dico e questo fa ovviamente un piacere immenso ed è per questo che io vi ringrazio vi assicuro che non è una lecchinata perché non è che devo stacchiare a cimola follower perché io non voglio guadagnare a sordi con youtube ho sempre detto che se un giorno dovessi guadagnare anche solo un euro lo spenderei o per il bene del club o in beneficenza che è una cosa che abbiamo imparato anche da altri Lazio Club su cui vogliamo ovviamente instradarci anche noi perché è un concetto molto importante io poi studio sociale quindi lo so bene quello che comporta quindi come dicevo non sto qui per guadagnare i sordi non sto qui per diventare famoso perché niente ma anche chi se ne frega sto qui per condividere la mia passione con voi sto qui per condividere l'amore per la mia squadra con voi e per tante cose belle come questi piccoli traguardi che fanno un immenso piacere che neanche immaginate quindi questo è il mio grazie a tutti voi ragazzi grazie davvero per per esserci per esserci adesso avanti fino ai 500 600 700 quanti saremo noi saremo sempre qui a parlare della nostra amata Lazio e del nostro Lazio Club qui a Monaco di Baviera dove vi aspetto sempre lo dico e ve lo ripeto vi aspetto sempre ragazzi un abbraccio un abbraccio ancora un grande grazie e noi naturalmente forza Lazio